E' l'assessore alla sicurezza e polizia municipale del comune di Arezzo Barbara Bennati ad intervenire sul delicato tema di furti e rapine che da qualche mese sono all'ordine del giorno nel territorio aretino. Il settimo colpo a Gustolandia, gli innumerevoli casi di furto all'interno di casi e appartamenti nell'Interland aretino. L'assessore manifesta intanto la sua vicinanza alle vittime di questi eventi criminali. Purtroppo sono vere e proprie bande organizzate, afferma la Bennati. Non si tratta di un ladro casuale ma di gente esperta e capace di deludere qualsiasi sistema di sicurezza e disposta a tutto. L'intervento singolo della polizia municipale potrebbe fare ben poco. E' invece essenziale la collaborazione tra tutte le forze dell'ordine e soprattutto il coordinamento degli interventi. Posso rassicurare la popolazione che questo coordinamento esiste ed è stato determinante in diverse occasioni. Quello che può materialmente fare l'amministrazione comunale con il corpo di polizia municipale è sollevarlo da una mole di lavoro sul fronte amministrativo e burocratico. Penso, continuo alla Bennati, alle autorizzazioni per utilizzo di suolo pubblico e tutta la burocrazia che sta dietro all'organizzazione di spettacoli e manifestazioni. Questa è una mia specifica proposta su cui la giunta comunale sta riflettendo. In ultimo il videocontrollo delle 89 postazioni, già 40 sono attive e la sala operativa della polizia municipale è predisposta per ricevere le immagini e utilizzarle nelle attività di repressione dei reati.